Buongiorno a tutti, io mi chiamo Massimo Canducci, sono il responsabile dell'innovazione in engineering, insegno all'Università di Torino gestione dei processi di innovazione e insegno Consulting and Soft Skills all'Università di Pavia. Oggi però non siamo qua per parlare di tutte queste cose noiosissime, ma siamo invece qua per parlare di intelligenza artificiale, anzi intelligenze artificiali. La prima cosa che dobbiamo però capire è che cosa non è l'intelligenza artificiale. Spesso purtroppo abbiamo la percezione, anche un po' a causa delle informazioni errate che ci viene data dai media, che l'intelligenza artificiale sia legata a macchine che pensano e che possono in qualche modo essere, in qualche modo possono provare emozioni, addirittura come tanta filmografia ci vorrebbe far pensare, addirittura possono innamorarsi, provare emozioni e di conseguenza in qualche modo entrare in una relazione con l'essere umano che non è tipica di quella della macchina ma è più tipica di quella che hanno gli esseri umani tra di loro. Beh, questo, come stavo dicendo prima, non è intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è tutt'altro. L'intelligenza artificiale è avere delle macchine che, per esempio, secondo la definizione di questo signore che vedete che si chiama Alan Turing, delle macchine che in qualche modo sono in grado di superare quello che lui chiamava limitation game, cioè la possibilità di fare in modo che una macchina possa interagire con un essere umano e l'essere umano possa non essere in grado di capire se di fronte a lui c'è una macchina oppure c'è un altro essere umano. Quindi in questo senso è chiaro che se la macchina riesce in qualche modo ad imbrogliare l'essere umano e quindi fare in modo che l'essere umano capisca che in realtà lui si sta relazionando con un uomo o con una donna e non con una macchina, ecco che allora in questo caso la macchina, secondo la definizione di Alan Turing, è una macchina intelligente. Quindi una intelligenza di tipo artificiale. Tutto questo però è molto complesso perché in realtà noi siamo di fronte a un mondo che in effetti è circondato da intelligenza artificiale. Noi non ce ne accorgiamo ma molto spesso siamo in relazione con delle simulazioni di intelligenza artificiale, con delle situazioni in cui ci sembra di essere di fronte ad una persona ma in realtà stiamo interagendo con una macchina. Tanto per farvi un esempio a caso, ma ce ne sarebbero molti altri, nel momento in cui voi aprite su un sito qualunque, per esempio il sito di Amazon, la richiesta di comunicare via chat con un operatore, in realtà dall'altra parte non vi risponde un operatore ma vi risponde un bot, un chatbot, quindi un'intelligenza artificiale che inizia con voi una conversazione e cerca di portarla a termine soddisfacendo il vostro requisito. E se questo non dovesse avvenire per qualche motivo, quindi se l'intelligenza artificiale perde il controllo della conversazione, bene in questo caso la conversazione viene passata ad un interlocutore umano che naturalmente dovrebbe essere in grado di risolvere il nostro problema. Molti dicono che purtroppo l'intelligenza artificiale è completamente inutile. vediamo perché questo non è vero. Cominciamo a vedere questo piccolissimo video di esempio. Se partisse sarebbe bellissimo. Vabbè non parte, ve lo racconto lo stesso. Allora questo è un robot creato da un'azienda che si chiama Boston Dynamics, che è un'azienda americana molto famosa nella produzione di robot industriali. Come vedete è un robot di forma umanoide ed è un robot che oltre a camminare, muoversi negli spazi aperti e chiusi, eccetera, eccetera, ha una caratteristica. Riesce a fare il salto mortale in avanti ed atterrare in piedi. Voi siete capaci a fare il salto mortale in avanti e a tirarlo in piedi? No. Però sapete benissimo che tanti esseri umani imparano a farlo, soprattutto da bambini. Si impara, è una cosa che si può imparare. Non è da tutti ma si può imparare. Beh, la macchina, questo robot, ha fatto esattamente questo. Cioè ha provato a saltare facendo questo salto mortale in avanti fino a quando non c'è riuscita. Questo significa che ha imparato, cadendo, esattamente come fanno i bambini quando vanno in bicicletta, ha imparato cadendo e questo ha comportato il fatto che all'interno della macchina tutta la componente dedicata all'intelligenza artificiale avesse un ruolo assolutamente primario e consentisse alla macchina stessa di imparare quali erano i movimenti giusti per poter fare questo tipo di salto mortale. Questa è la faccia che avreste avuto se aveste visto il video, perché il video è veramente molto interessante, cercatelo su YouTube. Vediamo un altro piccolo esempio. Questo è un film del 1984. Vi dice qualcosa? Un film che si chiama War Games ed è abbastanza famoso perché eravamo nel piano della Guerra Fredda e naturalmente il pericolo che si percepiva era il pericolo della guerra termonucleare globale. Allora, in questo film c'è un professore universitario americano che crea un computer che si chiama Joshua e questo computer ha il compito di, in qualche modo, di prevenire la guerra termonucleare globale. Però nel frattempo il professore universitario, essendo un professore universitario particolarmente innovativo, insegna anche al computer a giocare a tutta una serie di giochi. Dagli scacchi al banalissimo Tris fino a uno dei giochi che è la guerra termonucleare globale. Ora, nel momento in cui il computer inizia a giocare a Tris, si accorge che il Tris, nel momento in cui voi lo sapete giocare, è un gioco che non vale la pena di essere giocato, perché è impossibile vincere. Se voi sapete giocare a Tris, immediatamente dopo non giocare più. È un gioco che non si può vincere, quindi l'unica mossa vincente è non giocare. Bene, la stessa cosa durante il film, adesso scusatevi se vi spoilerò un film nell'84, ma credo che mi perdonerete, la stessa cosa accade con la guerra termonucleare globale. Il computer facendo delle simulazioni si accorge che l'unico modo di vincere quel tipo di gioco è non giocarlo, perché giocandolo in questo caso tutti e due i contendenti sarebbero assolutamente sconfitti, quindi doppia sconfitta. Questo è uno dei primi casi dove in cinematografia viene fuori il tema dell'intelligenza artificiale, esattamente come dovrebbe essere. Quindi è una macchina che impara sulla base dell'esperienza quali sono i comportamenti da attuare nelle singole situazioni. Il problema è che spesso ci si domanda come sia possibile che una macchina possa imparare, perché un conto è avere una macchina che esegue in modo maniacale le istruzioni che noi le diamo e quindi esegue le istruzioni di un algoritmo ed è in grado di fare dei calcoli ed è in grado di portarci anche sulla luna senza particolari problemi se il programma è stato scritto bene. Un conto invece è dire ad una macchina, guarda, la tua base di conoscenza te la devi costruire da sola sulla base di quello che trovi nel mondo intorno a te, oppure sulla base di una serie di informazioni che io ti propongo e che costituiranno sostanzialmente la tua conoscenza e su questa conoscenza tu dovrai fare tutti i tuoi ragionamenti, dovrai basare poi i tuoi comportamenti futuri. Questo avviene attraverso una particolare tecnologia che si chiamano reti neurali. Le reti neurali sono delle reti informatiche, quindi concept digitali, che a tutti gli effetti simulano il comportamento del cervello umano. Quindi ci sono tante piccole zone che simulano il comportamento dei neuroni e di conseguenza la rete neurale nella sua complessità si comporta più o meno come se fosse il cervello dell'essere umano. Dico più o meno perché il cervello dell'essere umano è una cosa molto più complessa naturalmente, però diciamo che le poche cose del cervello che ancora sappiamo sono state replicate abbastanza fedelmente attraverso il concetto di rete neurale. La rete neurale ha un input layer, quindi una fase in cui noi andiamo ad inserire informazioni, inserire conoscenze e poi ci aspettiamo che dall'altra parte la rete ci dia qualche tipo di risultato in funzione di quello che ci serve. E all'interno ci sono diversi strati che servono sostanzialmente ad identificare l'input, cioè ti sto facendo vedere una fotografia e quindi tu macchina sei in grado di capire che cosa c'è all'interno di quella foto, quindi riconoscerla, dopodiché categorizzarla, quindi andare ad inserire per esempio dove c'è un'immagine tante etichette che rappresentino quali sono i componenti contenuti all'interno di quell'immagine e di conseguenza alla fine fornire un certo tipo di risultato qualunque. Benissimo. Per fare una cosa del genere i programmatori come farebbero? Si metterebbero a scrivere tantissime belle pagine di codice in qualche bellissimo linguaggio di programmazione. Cose fantastiche e diciamo il modo di affrontare questo problema naturalmente ha sfortunatamente dei limiti e adesso vedremo perché. Proviamo ad immaginare se volessimo fare in modo che una macchina sia in grado di riconoscere una sedia. Come faremmo? Spiegheremmo al computer che una sedia è fatta in un certo modo, ha quattro gambe, ha un piano dove ci si siede, ha una spalliera dove ci si appoggia. Benissimo. Dopodiché presentiamo una foto di una sedia al computer, il computer la riconosce perché ha esattamente quelle caratteristiche e dice perfetto questa è una sedia. Quindi il modo tradizionale di effettuare programmazione al computer in questo caso funziona benissimo. Sfortunatamente però a un certo punto gli presentiamo un altro tipo di sedia e il computer la guarda e dice no questa non è una sedia. Allora abbiamo sbagliato qualcosa, dobbiamo tornare indietro, abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro programma, torniamo indietro e andiamo ad inserire un'istruzione in più all'interno del programma e diciamo guarda che la sedia non è soltanto come quella che ti avevo detto prima ma potrebbe anche avere caratteristiche diverse, quindi cinque rotelle, un piantone, braccioli eccetera. Di conseguenza a questo punto il computer, la nostra macchina, sarebbe in grado di riconoscere anche quel tipo di sedia perché gli abbiamo spiegato come è fatta anche quella sedia. Fantastico. Poi però succede una cosa che noi gli presentiamo anche un altro tipo di sedia che è questa. È una degli altri milioni e milioni di tipi di sedie che esistono al mondo e capite che il computer non è in grado di riconoscere questa come una sedia e quindi capiamo che il metodo tradizionale non funziona. Quindi abbiamo completamente sbagliato approccio. Non possiamo spiegare a un computer come è fatta una sedia semplicemente descrivendo all'interno del programma tutti i milioni di tipi di sedie che esistono. Questo metodo non funziona, non si può fare. Ecco quindi che entrano in gioco quelle che prima chiamavamo reti neurali. Quindi all'interno della base di riconoscenza della nostra macchina che ha al suo interno l'intelligenza artificiale andiamo ad inserire le immagini di tutte i milioni di sedie che abbiamo. E la macchina non dovrà fare altro che prendere queste immagini, immagazzinarle al suo interno e capire che ogni volta che gli facciamo vedere un oggetto quella è una sedia. Quindi stiamo insegnando alla macchina, proprio come faremmo con un bambino, che quell'oggetto è una sedia e di conseguenza la macchina impara che quella è una sedia. Associa quella forma, quella formulazione geometrica viene associata a un certo tipo di etichetta. L'etichetta è sedia. E' chiaro che poi naturalmente questo tipo di operazione va ripetuto milioni di volte perché sono milioni le tipologie di sedie che possiamo inserire, con milioni di parametri differenti e con milioni di esempi, perché ovviamente se l'intelligenza artificiale si basa sulla conoscenza la conoscenza deve essere ampia. Se la conoscenza è scadente non abbiamo abbastanza informazioni. E' chiaro che poi nel momento in cui avremo addestrato la macchina a lavorare in questo modo e a questo punto presenteremo alla macchina una foto di una sedia che la macchina non ha mai visto, ci sono due possibilità. La macchina può riconoscere quell'oggetto lo stesso come una sedia perché all'interno di quell'oggetto sarà in grado di individuare alcuni pattern, alcune forme particolari per cui potrà darci una probabilità sufficientemente importante che quella è una sedia e quindi noi potremmo dire, va bene, hai imparato anche che questa è una sedia. Oppure su una foto che la macchina non ha mai visto potrebbe dirci questa non è una sedia e allora noi dovremmo fare esattamente come si fa con un bambino a cui stiamo insegnando qualche cosa. Dovremmo dire, no, guarda, questa in effetti è una sedia perché ha queste caratteristiche e questo lo faremmo andando all'indietro su questi filoni rossi che vedete fino ad andare ad intercettare qual è il neurone digitale che ha innescato la probabilità per cui il computer non ha riconosciuto questo oggetto come una sedia e di conseguenza otteniamo e forziamo la macchina a riconoscere che quella è una sedia. Ok? Quindi questo è come funzionano in generale le reti neurali. Quindi voi dovete provare ad immaginare la potenza di uno strumento del genere. Abbiamo una rete che ha all'interno codificato un certo tipo di comportamento e ha una base dati completamente vuota, quindi non sa nulla. Ma nel momento in cui noi cominciamo a riempire questa base di conoscenza la macchina utilizza questa base di conoscenza per darci delle informazioni. e queste informazioni non sono soltanto legate alla forma specifica nel suo complesso della nostra sedia, ma sono basate anche su singoli pattern che la macchina può riconoscere all'interno delle foto che le diamo. Questo è molto importante e molto interessante se pensate, per esempio, che all'interno delle TAC, delle risonanze magnetiche e delle radiografie, spesso chi è molto bravo a leggerle non riconosce soltanto le cose più evidenti, per esempio le fratture all'interno di una lastra, perché spesso il radiologo, o il tecnico che poi legge il referto radiologico, che cosa fa? Va a cercare la frattura perché il medico del pronto soccorso ha indicato sospetta frattura alla gamba sinistra e quindi il radiologo va a cercare la frattura e dice sì, qua c'è la frattura oppure no, non c'è nessuna frattura. L'intelligenza artificiale, invece, sarebbe in grado di riconoscere non soltanto la frattura, ma di individuare tutti quei marker e quei pattern che, secondo la sua base di conoscenza, possono rappresentare anche qualche altro tipo di malattia e di conseguenza indicarci anche questo tipo di situazioni. Questo è enormemente interessante, perché se voi immaginate che al mondo esistano milioni di bravissimi medici in grado di leggere i referti prodotti da macchine di questo genere, quindi radiografie, TAC, risonanze magnetiche, e provate ad immaginare la loro bravura inserita tutta insieme all'interno di un'unica macchina, è chiaro che nel momento in cui voi fornite un referto alla macchina, la macchina è in grado di assorbire la conoscenza di tutti questi medici e di portarla a disposizione del paziente. Questa non è fantascienza, ma questa è assolutamente scienza ed è una cosa che si fa già oggi, anche se naturalmente con risultati limitati, perché la tecnologia è ancora naturalmente perfettibile. La domanda però è dove troviamo tutta la potenza computazionale necessaria per poter fare questo tipo di operazioni. Queste cose non sono banali, serve tanta tanta potenza di calcolo, quindi servirebbero computer con grandissime capacità di calcolo, cosa che naturalmente purtroppo non è a disposizione di tutti. Fortunatamente a risolvere parzialmente questo problema ci hanno pensato i videogiocatori. Voi dovete sapere che all'interno di un computer di quelli moderni non è il processore la componente che è più brava a fare i calcoli, ma è un particolare processore che è quello che si occupa della grafica, il coprocessore grafico, la cosiddetta GPU. Grazie al fatto che ci sono tantissime persone nel mondo a cui piace giocare ai videogame, c'è stato negli anni un enorme dispendio di ricerca nel creare processori grafici sempre più performanti. Questo ha portato sul mercato dei processori grafici a costi relativamente bassi, stiamo parlando di meno di mille dollari, e delle potenze enormi, riferite per esempio ai computer tradizionali. Ecco che queste macchine, questi processori grafici, vengono utilizzati in batteria per realizzare i computer che poi vengono utilizzati per le cosiddette intelligenze artificiali, quindi per fare girare le reti neurali. Molto bene. Tutto questo come funziona però? Come funziona? Abbiamo anche un pochino parlato prima. Prendiamo una rete che è già stata addestrata, quindi che ha un certo tipo di competenza, presentiamo una nuova immagine alla rete, un'immagine che la rete non ha mai visto, perché se l'ha già vista è chiaro che sa esattamente cosa c'è dentro, ma un'immagine che la rete non ha mai visto, e di conseguenza la rete è in grado di capire quali sono i componenti che sono presenti all'interno di quell'immagine, perché quei singoli componenti probabilmente li ha già visti da qualche altra parte. Quindi è in grado per esempio di riconoscere che c'è una borsa, è in grado di riconoscere le scarpe, è in grado di riconoscere un vestito, è in grado di riconoscere una sagoma umana, è in grado di riconoscere che dietro ci sono per esempio degli alberi, e così via. Tutti singoli pattern all'interno di una singola immagine. può anche sbagliare naturalmente la rete neurale, però diciamo che complessivamente i risultati oggi sono parecchio interessanti. Questo si chiama segmentazione semantica, cioè l'immagine viene segmentata, cioè suddivisa in tante parti, e poi viene annotata, cioè ogni singola parte viene annotata, viene inserita una etichetta che associa a quella forma il nome che rappresenta quel tipo di forma, quindi borsa, albero, immagine eccetera. Ed è quello che accade. Quindi in questa immagine vedete che per esempio c'è una folla, c'è qualcuno che sta reggendo qualche cosa, qua non c'è scritto qualche cosa, ma si suppone che l'immagine sappia che questo è un telefono cellulare, c'è il colore viola per esempio, c'è il volto di una donna, c'è una macchina fotografica e qua c'è un gatto. Lo vedete il gatto? Non c'è nessun gatto. Non c'è nessun gatto ma l'intelligenza artificiale ha confuso la forma di questi capelli con la forma ipotetica di un gatto. Non è un problema, è meglio un falso positivo che un falso negativo. In questo caso però la macchina ha fatto, devo dire, un discreto lavoro. Questo è un altro esempio di come si può usare questo tipo di tecnologia. Telecamere sulle autostrade che sono in grado di riconoscere i veicoli indipendentemente dalla loro targa. Quindi in alcuni casi non soltanto la tipologia del veicolo, ma nei casi più sofisticati addirittura la marca del veicolo e quindi si possono fare cose molto interessanti. Questo è quello che vede una macchina che ha la guida autonoma. La guida autonoma è l'unione di tante tecnologie. Una di queste è l'intelligenza artificiale che serve per il riconoscimento dell'ambiente circostante. Se sono su una macchina a guida autonoma e la mia macchina sta percorrando una strada e la strada viene attraversata improvvisamente da qualche cosa, questo qualche cosa deve essere riconosciuto e la macchina deve essere in grado di fermarsi. Questo non significa che se passa una persona mi devo fermare e se passa un cane lo investo. No, non è questo il meccanismo. Però il riconoscimento dell'ambiente circostante è assolutamente fondamentale per capire anche che cosa faranno gli altri intorno a me nel momento in cui mi metto alla guida. Si possono fare anche esperimenti molto interessanti come questo, per esempio. Supponiamo di aver fatto una magnifica foto a una città, che però purtroppo siamo andati in vacanza in un giorno sfortunato, il tempo era brutto e magari era mattina avremmo voluto farlo alla sera, eccetera. Allora prendiamo la nostra foto originale, poi prendiamo una foto di un'altra città che non c'entra nulla, che però ha l'ambientazione in termini di luci che ci piace. Diamo tutto questo alla macchina e diciamo, per favore mettimi insieme le due cose per fare in modo che la foto originale abbia le caratteristiche di bellezza della foto secondaria. E la macchina lo fa, grazie al fatto che riconosce i pattern ed è in grado, con la componente che c'è in fondo, di produrre l'output che vogliamo. Dovete sapere che esiste su internet un database completo, che si chiama ImageNet, che contiene circa 20 milioni di immagini. Dico circa perché queste immagini vengono inserite costantemente. Un database completamente gratuito viene utilizzato per addestrare le intelligenze artificiali che hanno bisogno di imparare come si fa a riconoscere le immagini. Ad ogni immagine sono associate dei tag, delle etichette. E all'interno di ogni singola immagine ci possono essere fino a 22 mila oggetti. Quindi, voi immaginate un certo numero di immagini che vengono date in pasto all'intelligenza artificiale e la macchina inizia a lavorare su quelle immagini fino a quando non riesce a individuare correttamente tutti i marcatori e tutti i tag che fanno parte delle singole immagini. Il risultato è che oggi le intelligenze artificiali che in circa tre ore lavorano su queste enorme mole di informazioni raggiungono più del 98%, quasi il 99% del risultato. Cioè riconoscono il 99% di tutte le marcature che sono all'interno di questi 20 milioni di immagini. Molto più dell'uomo. L'uomo no. L'uomo si avvicina intorno al 95%. Quindi da questo punto di vista possiamo dire, generalizzando, che l'intelligenza artificiale riconosce meglio le immagini di quanto possa fare un uomo. Anche se qualche errore, come abbiamo visto prima, purtroppo qualche volta lo fa. Quindi il tema della notazione, della segmentazione delle immagini ormai è un non tema. Le intelligenze artificiali sono in grado, senza particolari problemi, di fare questo tipo di operazione. Allora la domanda che possiamo farci a questo punto è ma è possibile aggiungere allora alle immagini delle informazioni che non esistono o che in quelle immagini non sono presenti? Vediamo. Questa volta il video parte che mi conforta. Allora, a parte qualche informazione legata a come funziona la catena, questo è un esperimento molto interessante in cui vedete qualcuno che prende un'immagine ne cancella delle parti, poi queste immagini vengono date in pasto all'intelligenza artificiale e la macchina restituisce l'immagine di partenza. Non proprio quella di partenza, ma un'immagine che assomiglia a quella di partenza. Prendiamo un'immagine dove c'è un intruso, cancelliamo l'intruso, questo è una cosa che ci capita spessissimo quando facciamo foto per conto nostro, la macchina ricostruisce l'immagine eliminando l'intruso. possiamo fare anche editing delle facce. Togliamo gli occhi e la macchina sostituisce con un altro paio di occhi. Togliamo la bocca e la macchina sostituisce con un'altra bocca. Togliamo il volto intero, la macchina sa che in quel punto c'è un volto e inserisce un volto. Possiamo fare addirittura nuove pettinature, cancellando la vecchia pettinatura, la macchina non sa qual era la pettinatura originale e inserisce una pettinatura diversa, però che è conforme e compatibile con il volto a cui si sta riferendo. Naturalmente possiamo togliere qualunque tipo di porzione. La cosa interessante è che la ragazza di destra non esiste, come potete immaginare. In natura quella signora lì non esiste. Che cosa ha fatto la macchina? Ha capito che in quel punto dove c'era il bianco ci volevano gli occhi, ci volevano i capelli, ci volevano la bocca. Ed ha preso una bocca da qualche altra parte che avesse le caratteristiche morfologiche compatibili con la carnagione, con il genere della persona, eccetera, eccetera, e l'ha inserita lì. Naturalmente questa donna, quella che c'è a destra, non esiste. Però esiste nel senso che la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale sono in grado in questo caso di portarci ad un nuovo livello di generazione di contenuti. Quindi possiamo prendere immagini di questo tipo, all'interno delle quali mancano delle parti, e possiamo ottenere delle immagini complete. Naturalmente l'immagine completa, finale, non è l'immagine originale da cui sono state tolte alcune parti. In questo caso lo è perché è una simulazione, però dovete pensare che potrebbe tranquillamente non esserlo. possiamo quindi prendere un volto, togliere tutta la parte, una parte che vogliamo cambiare, e la macchina restituisce un volto completamente nuovo. Possiamo prendere un'immagine a bassa risoluzione, e la macchina aggiungerà tutte quelle componenti di informazione che servono per ricostruire l'immagine ad alta risoluzione. Quindi in questo caso stiamo aggiungendo informazione che non c'è. E che non solo non c'è, ma che non saremmo in grado neanche di individuare, perché quell'immagine è stata scattata direttamente a bassa risoluzione. Siamo in grado per esempio di togliere alcune parti da un'immagine e fare in modo che l'immagine venga ricostruita senza queste parti, ma in totale coerenza rispetto all'ambiente circostante. Quindi eliminiamo questa rete metallica, lasciando delle righe bianche fondamentalmente, e la macchina, siccome non ha idea che dici fosse una rete metallica, ricostruisce l'immagine aggiungendo tutti i pezzi del bambino che invece c'era lì dietro. Quindi anche in questo senso possiamo dare per scontato che il tema di aggiungere informazioni dove le informazioni originali si sono perse ormai è un non tema, nel senso che siamo riusciti a ottenere, con qualche compromesso, anche questo tipo di risultato. Allora viene da pensare, ma possiamo fare qualcosa di un po' più interessante? Possiamo per esempio cominciare a ragionare su concetti di strategia? Quindi non soltanto riconoscimento banale di immagini, ma vedere se la macchina riesce ad aiutarci anche sulla strategia e riesce ad imparare qualcosa di diverso. Vediamo per esempio che cosa succede quando proviamo a far giocare ad una macchina questo gioco degli anni 90, che si chiama Breakout, forse qualcuno di voi ci ha anche giocato in età qualche anno fa. Beh, dopo circa 200 partite, vediamo che la macchina diventa un discreto giocatore. Diventa un discreto giocatore tanto è vero che sbaglia raramente. Poi, dopo 400 partite, diventa talmente bravo che ormai riesce quasi sempre a terminare la partita e salire di livello senza particolari problemi. La cosa interessante però succede, imparando sempre di più, a circa 600 partite. Cosa succede intorno alle 600 partite? Succede che la macchina si accorge di una cosa casualmente. Si accorge che se si apre un varco su un lato e la pallina va verso l'alto, la macchina fa un sacco di punti in più facendo molta meno fatica. Quindi ci sono molti meno movimenti del disco in basso, che è poi un po' quello che abbiamo imparato tutti dopo un po' giocando a questo gioco. E allora la macchina si accorge di questo comportamento e quindi cerca di mandare sempre la pallina nell'angolo. Esattamente quello che facevamo noi quando giocavamo a questo gioco. Ci accorgiamo che facendo quel percorso si ottengono più punti ed è meno facile, è molto più difficile sbagliare e quindi cerchiamo di fare quel tipo di strategia. Quindi la macchina non solo impara a giocare, ma impara a giocare esattamente come abbiamo fatto noi tanti anni fa quando giocavamo a breakout. Beh, in effetti questo tipo di situazione non è nuovo, nel senso che già negli anni 90, nel 1992 per esempio, le macchine sapevano giocare a backgammon e sapevano vincere a backgammon. Nel 1994 la macchina è stata in grado di giocare a dama e soprattutto a vincere a dama. Quando dico vincere significa battere il campione del mondo di specialità. Questo è vincere, non esistono altri. Cioè diventare più brava di qualunque essere umano in grado di giocare a quel gioco. Nel 1994 è stato battuto il campione mondiale di dama da una macchina. Nel 1997 probabilmente vi ricordate che il campione in carica del gioco degli scacchi che si chiamava Kasparov è stato battuto da un computer IBM che si chiamava Big Blue, se non ricordo male, o Deep Blue, qualcosa di simile. E' battuto, quindi diciamo che da quel momento lì in poi, nonostante ci fossero potenze di calcolo estremamente più basse di quelle che abbiamo oggi a disposizione, il gioco degli scacchi è terminato, nel senso che la macchina batte l'uomo, fine della storia. Ma dovete sapere che questi tre esempi non hanno nulla a che vedere con l'intelligenza artificiale. Nel senso che la strategia in questo caso era molto più banale. Cioè a partire da una certa posizione il computer in parallelo giocava tutte le partite possibili, o quasi tutte nel gioco degli scacchi perché sono un po' tante, e poi scartava tutte quelle mosse che potevano portare potenzialmente ad una partita che si poteva chiudere con una sconfitta da parte della macchina. E quindi giocava sostanzialmente soltanto le mosse che portavano certamente alla vittoria. Sarebbe bello poter tornare indietro quando ci si è accorti di aver sbagliato mossa, no? Ecco, questo è quello che faceva la macchina, giocava in parallelo le partite e poi quelle che vinceva venivano considerate buone e giocava. Questa si chiama tecnica della forza bruta, che non ha nulla a che fare con l'intelligenza artificiale, è solo proprio banale capacità di calcolo. Però c'è un gioco che si chiama il gioco del Go, un gioco millenario, su cui purtroppo questa strategia non si può applicare. Perché mentre lo spazio di strategia degli scacchi è di una ventina di mosse circa, sono circa 20 le mosse che posso fare, 15, 20, non di più, per via delle regole, invece in questo caso il gioco del Go è un gioco molto particolare dove sostanzialmente si vince quando si riesce a conquistare più del 50% della tavola e per conquistare porzioni della tavola bisogna circondare con il proprio colore delle zone all'interno delle quali sono contenute le pedine delle pietre, anzi, dell'avversario. Quindi è un gioco che ha un impatto strategico enorme e la tavola è 19 per 19, quindi dovete immaginare che esistono più posizioni nella tavola del Go che atomi nell'universo. Quando mi hanno detto questa frase non ci volevo credere e poi invece mi sono informato. Esistono più posizioni sulla tavola del Go che atomi nell'universo. Quindi capite che con un gioco di questo tipo l'approccio forza brutta è totalmente fallimentare. Sarebbe un po' come tornare al riconoscimento delle sedie però partendo da codice scritto e codificato. Quindi non funziona, non si può giocare così. Allora si utilizza e si è utilizzato lo strumento dell'intelligenza artificiale. E' stata costruita una macchina che giocando ha imparato a giocare. E non solo giocando lei ma anche prendendo in ingresso tutte le partite che vengono fatte nei tornei più importanti. E quindi la macchina ha imparato a giocare, ha imparato a giocare, ha imparato a giocare, ha imparato a giocare fino a quando ha imparato anche a vincere. Fino a quando nel 2016 ha battuto il campione europeo di Go, che naturalmente è un ragazzo di origine asiatiche perché gli asiatici sono particolarmente bravi, oltre ad essere nel gioco asiatico, ma gli asiatici hanno caratteristiche non si sa di che genere ma che sicuramente li portano ad essere più portati a questo tipo di giochi. Il campione europeo di Go era particolarmente famoso. A un certo punto nel 2016 ha dovuto cedere il trono a questa macchina in grado di batterlo. Ma dovete sapere che il livello tra il campione europeo di Go e il campione del mondo di Go è tutta un'altra cosa, è un altro livello. Allora la macchina è stata addestrata ulteriormente per giocare contro il campione del mondo di Go, fino a quando nel 2017 questo progetto che si chiama AlphaGo ha battuto questo signore, che ha un nome impronunciabile, non sarei in grado di pronunciarlo, che però era il campione del mondo di Go. Dico era perché oggi è il campione del mondo di Go, ma soltanto nella categoria degli esseri umani, perché nella categoria globale è AlphaGo il campione del mondo di Go. Molto bene, tutto questo è molto interessante, però dal punto di vista tecnologico potete immaginare uno si può aspettare un'evoluzione in questa direzione. Non è particolarmente strano immaginare che dove c'è un problema prima o poi la macchina possa arrivare. Bene, la cosa però è stata particolarmente interessante anche perché una volta battuto il campione del mondo di Go è stata presa un'altra macchina, gemella rispetto a quella che aveva battuto il campione del mondo di Go e è stata svuotata della sua conoscenza, quindi era come se fosse una persona che non aveva mai visto il Go in vita sua. Ed è stata messa a giocare contro la macchina che aveva battuto il campione nel mondo di Go. Nel giro di una settimana le due macchine sono diventate assolutamente paritetiche. Quindi in una settimana si riesce a diventare bravi, se siete un'intelligenza artificiale, esattamente come quella macchina che ha battuto il campione nel mondo di Go. E poi è stato fatto un altro esperimento. Sono state prese due macchine, anche loro completamente vuote, e si sono fatte giocare una con l'altra. In questo caso siamo di fronte a giocatori artificiali che giocano senza avere al loro interno la conoscenza di come gioca l'uomo. E quindi hanno inventato un modo di giocare che non è uguale a quello con cui gioca l'uomo. E hanno inventato dei pattern comportamentali nel gioco del Go che sono talmente interessanti che vengono studiati anche dai migliori giocatori del mondo perché ci sono delle strategie che soltanto la macchina è riuscita a mettere in campo perché non aveva al suo interno quel background che era quello portato dalla conoscenza del gioco da parte dell'uomo. Quindi vedete che ci si alza sempre a dei livelli sempre più alti. Quindi è uscito un articolo su una rivista importantissima americana che diceva che è possibile imparare a giocare a Go anche senza portarsi dietro tutta la competenza dell'essere umano. Naturalmente strategia non significa giocare. Il gioco è uno degli aspetti. Strategia significa anche qualcos'altro come potete immaginare. Per esempio la strategia militare o la strategia politica. Ecco perché è importante lavorare anche sui temi di strategia. Bene, allora qualcuno potrebbe chiedersi ma allora se queste macchine diventano così velocemente, così performanti e sono in grado di fare tutte queste cose possiamo avere con loro un certo tipo di conversazione? Possiamo parlare con loro il linguaggio naturale? Quello che vedete, quelli che vedete sono tre robottini giapponesi anche in questo caso c'è un magnifico video ma vedo che non parlo. Comunque tre magnifici robottini giapponesi realizzati dall'università di Osaka dal professor Hiroshi Ishiguro che sono in grado, a parte le movenze fisiche abbastanza interessanti ma sono in grado di conversare abilmente e amabilmente tra di loro in giapponese e anche in inglese. Tanto è vero che questi robottini vengono venduti in Giappone e vengono utilizzati dalle famiglie giapponesi per insegnare l'inglese ai bambini giapponesi. Sono macchine in grado di insegnare l'inglese ai bambini. Questo è il professor Ishiguro. La domanda è chi dei due è il professor Ishiguro? Lo riconoscete? Quello di destra o quello di sinistra? Il professor Ishiguro è quello di destra, sì. Però, insomma, non è che sia così immediato. Il professor Ishiguro ha anche la caratteristica di lavorare sul tema dei geminoidi che sono repliche integrali dell'essere umano in realtà integrali è sbagliato perché sono senza gambe al momento ma è un non problema e questo professor Ishiguro, lui o il suo alter ego digitale che parla come lui, si muove come lui alla stessa mimica facciale, esattamente identica lui o il suo sosia digitale vengono utilizzati per le conferenze, per esempio. Quando lui ha uno speech in una conferenza la conferenza lo inizia il suo sosia che sta seduto dietro a una scrivania e si mette a parlare e soltanto quando entra il vero professor Ishiguro in scena ci si accorge che quello di prima non era il professore vero ma era il suo alter ego digitale. Quindi questo è molto interessante. Il parlare in linguaggio naturale semplificando possiamo dire che è una conquista ormai dell'intelligenza artificiale in realtà come sapete non è proprio così perché c'è il grande tema del riconoscimento che invece è molto complicato da fare. però siamo sulla strada giusta anche da questo punto di vista. E allora resta il grande nodo di capire ma l'uomo a un certo punto in uno scenario di questo tipo dove le macchine sono strategicamente ineccepibili riescono a riconoscere il mondo intorno a noi meglio di noi possono prendere decisioni al nostro posto? Questa è la domanda a cui dovremmo cercare di dare risposta. Oggi che cosa succede? Oggi un manager o una manager che deve prendere una decisione si fa aiutare da una serie di dati di contesto dati economici, dati di produzione, eccetera decide e attua la sua decisione eventualmente la manager si può fare aiutare da strumenti di calcolo ho fatto dei magnifici grafici con Excel che mi hanno portato a dire che è meglio fare così invece che cosa. Benissimo. L'unico elemento all'interno di questo scenario che si può togliere qual è? È l'uomo o la donna in questo caso. perché la macchina è in grado di decidere da sola perché di fatto quando la macchina ci aiuta a prendere una decisione non fa altro che suggerirci una decisione a prendere poi sta a noi eventualmente per motivi che non sono razionali decidere diversamente ma la macchina sarebbe già in grado oggi di prendere una decisione nella gran parte dei casi. Facciamo un esempio per esempio perché le macchine a guida autonoma hanno così tanta difficoltà nel diventare lo strumento con cui ci muoviamo abitualmente. Non è un problema tecnologico perché la tecnologia prima o poi arriverà a superare i limiti tecnologici. Non è un problema normativo perché le norme prima o poi arriveranno a rendersi conto del fatto che la tecnologia è sufficientemente pronta e quindi apriranno le porte anche questo tipo di veicoli. Il vero problema è l'etica cioè che cosa fare nel momento in cui c'è una situazione d'emergenza e devo decidere a chi salvare la vita e chi invece posso sacrificare. Se guardate questa immagine c'è una macchina con cinque occupanti a bordo che ha due possibilità o andare a sbattere contro una barriera e quindi sacrificare i cinque occupanti all'interno della macchina oppure deviare la sua traiettoria e andare ad investire i pedoni che sono sulle strisce pedonali. In ognuno dei due casi qualcuno muore. Quindi la domanda è chi deve morire ed è la macchina che deve decidere se quella è una macchina autonoma. Perché se a decidere c'è l'uomo ci sono tante sfumature del pensiero che possono portarci in una direzione o nell'altra. Ma se la macchina ha a decidere allora in quel caso la macchina deve decidere secondo una scala di priorità della vita che in qualche modo abbiamo insegnato alla macchina. Quindi meglio che uccidi le persone anziane e salvi i bambini. Meglio che uccidi tre persone e se ne puoi salvare cinque. D'accordo. Ma se posso salvare mia nonna che ha 90 anni investendo una scuola resca qualcuno potrebbe anche pensare è molto meglio mia nonna. Quindi in questo senso l'etica è un elemento che non si può oggi inserire all'interno dell'intelligenza artificiale perché è assolutamente personale. Quindi questo è un tema che più di altri sta frenando e frenerà le intelligenze artificiali soprattutto legate alla guida autonoma. Ma facendo un passo avanti e in questo caso sperando che l'audio funzioni ma sono abbastanza confidente che funzionerà proviamo a vedere cosa succede nel campo della musica e vi faccio sentire questa e ditemi se riconoscete qualcosa. chi è l'autore? non siete espertissimi di musica classica l'autore è questo signore qua che si chiama è Bach John Sebastian Bach benissimo la domanda è ma l'autore è veramente John Sebastian Bach oppure no? probabilmente non siete abbastanza musicofoli per capirlo bene esperti che hanno ascoltato questa sinfonia credo che si chiami sinfonia hanno detto ma avete per caso trovato una composizione di Bach che era nascosta in qualche scatolone e ce la siamo persi per centinaia di anni perché questa noi non l'abbiamo mai sentita bene questa è una composizione realizzata da un'intelligenza artificiale che ha preso in ingresso tutta la composizione storica di Bach tutto quello che Bach ha scritto se l'è portata diciamo all'interno della sua base di conoscenza e ha prodotto della musica e quella musica che ha prodotto naturalmente è come se l'avesse scritta Bach perché dal punto di vista concettuale lì dentro c'è tutto e solo quello che Bach aveva già scritto ma solo rivisto in qualche modo e trasformato nella sua essenza tanto è vero che gli esperti di Bach ci dicono questa roba probabilmente l'ha scritta Bach che noi non lo sapevamo quindi siamo arrivati ad un livello per cui l'intelligenza artificiale è in grado di scrivere musica all'interno di certi contesti e questa musica è sorprendentemente bella o comunque anche se non è bella magari si può ricondurre a un certo tipo di autore cosa assolutamente non banale come per esempio avviene con quest'altro video che invece è uno di quelli che non partono quindi è fantastico non importa non vi siete persi granché mi perdonerà l'autrice l'autrice è questa Taryn Southern che in realtà non è l'autrice ma è una persona che ha inserito all'interno di un'intelligenza artificiale un bel po' di musica contemporanea e con questa musica contemporanea mi riferisco per esempio ai Beatles a Duke Ellington musica di questo tipo ha generato musica nuova sulla base di musica esistente ma non facendo copia e colla come fa qualche autore al giorno d'oggi ma molto più semplicemente facendo in modo che fosse l'intelligenza artificiale a produrre questo tipo di musica e la produzione di questo tipo di musica è talmente interessante che è stato prodotto un disco che pare che venda anche molto bene si chiama IMAI questo è un altro esperimento interessante di nuovo Beatles poi c'è dell'altro dentro è un progetto che si chiama Flow Machines vi piace quello che avete ascoltato ma più o meno qualcuno sì qualcuno no però se aveste sentito questa musica passare per radio non avreste mai pensato che potesse essere una musica prodotta dell'intelligenza artificiale musica tutto sommato tradizionale perfetto questo è un prodotto di Sony ovviamente le parole sono state aggiunte da autori e da parolieri l'intelligenza artificiale si è occupata esclusivamente della della componente musicale che però voglio dire è già qualcosa bene sempre nel campo dell'arte proviamo a muoverci dal mondo della musica al mondo dei libri l'intelligenza artificiale può fare qualcosa in questo campo può fare qualcosa sia dal punto di vista della poesia sia dal punto di vista della più semplice letteratura con un'intelligenza artificiale che si chiama Microsoft Little Ice in Cina è stato prodotto un volume in vendita che analizzando è prodotto dall'intelligenza artificiale che analizzando 10.000 poesie in 2760 ore ha prodotto un po' di poesie e queste poesie pare che non siano neanche troppo brutte tanto è vero che hanno avuto la dignità di essere inserite in un volume che viene venduto in Cina sarebbe interessante purtroppo non c'è una traduzione in nessuna lingua che non sia il cinese però sarebbe interessante leggerle per capire a che livello poetico siamo sapete che la poesia è una cosa un po' particolare insomma non è soltanto semplice letteratura se invece vi piacciono i racconti dell'orrore esiste un account twitter con cui voi potete interagire e che produce delle storie dei pezzi di storia naturalmente in 280 caratteri in modo totalmente automatico e soprattutto interagisce con voi nel senso che se voi rispondete a qualche pezzo di storia inserendo una piccola continuazione la macchina continua la storia che voi avete continuato sulla base del suo tweet precedente quindi vedete anche in questo caso letteratura on demand as a service però la cosa più inquietante invece è che esiste una macchina dotata di intelligenza artificiale che ha letto tra virgolette tutti i libri di Harry Potter e ha prodotto un altro romanzo che si chiama Harry Potter e il ritratto di quello che sembrava una grande catasta di cenere esiste ovviamente è stata fatta anche una copertina eccetera è stato stampato non sappiamo cosa ne pensi la Rowling però è un esperimento molto molto interessante varrebbe la pena di leggerlo per capire se non altro a che livello siamo in termini di produzione di intelligenza artificiale la Rowling naturalmente non l'ha presa benissimo come potete immaginare e ha pensato di chiamare un avvocato il problema è che poi l'avvocato della Rowling ha raccontato alla Rowling che alla Corte Suprema americana c'è una banca dati con tutte le sentenze che sono state emesse dal 1791 e ci sono delle intelligenze artificiali che avendo analizzato tutte queste sentenze sono in grado di capire e di dirci se quelle sentenze sono giuste oppure non lo sono o per meglio dire sono in grado sulla base dei dati processuali di indicare la sentenza in questo caso il livello di successo si ferma al 70 virgola qualcosa per cento delle 28 mila sentenze presenti però potete immaginare che insomma c'è molto da dire anche in questo senso vediamo se questo parte invece questo signore si chiama Barack Obama lo vedete lo conoscete questa dichiarazione di Barack Obama qualunque cosa dica non esiste e non è mai esistita a sinistra c'è il video vero di Barack Obama a destra c'è una interpretazione di una intelligenza artificiale che prende un video e associa le parole che Barack Obama avrebbe detto all'interno di quel video è chiaro che questo giochetto si può fare con qualunque video di partenza quindi noi possiamo far dire a Barack Obama qualunque cosa ne vogliamo con la sua voce con il suo timbro e con la sua mimica facciale questo è un esperimento che è stato per molto tempo disponibile su internet purtroppo adesso non lo è più potete immaginare quindi che il tema delle fake news anche in questo senso è un tema importante perché voi potete prendere un video cioè potete prendere un personaggio qualunque e fargli dire in video qualunque cosa avendo una qualità della produzione del video davvero molto alta come se fosse l'originale e tutto questo è una cosa che purtroppo è già tra noi l'ultima cosa che c'è stata in termini di intelligenza artificiale negli ultimi giorni è una telefonata che Google ha fatto per prenotare un taglio di capelli in background quindi senza nessun tipo di interazione con l'utente finale quindi voi fate una domanda a un appliance a un Google Home che avete a casa e gli dite prenotami un taglio di capelli in quell'ora di quel giorno e la macchina vi risponderà dopo qualche minuto dicendo ok prenotato e in background quindi dietro le quinte fa questo la cosa interessante è che dall'altra parte della linea c'è qualcuno che non si accorge che sta parlando con una macchina ma pensa di avere di fronte invece un essere umano che risponde la macchina è in grado anche di interagire con conversazioni non banali quindi ti propongo l'appuntamento l'altra persona mi propone un'alternativa perché non c'è posto nell'appuntamento precedente fino a quando a trovare un compromesso si riesce a trovare un compromesso si forniscono i dati si prende l'appuntamento si chiude la conversazione e viene comunicato l'esito della conversazione al proprietario dell'oggetto in questo caso Google Home che è questo oggetto qua che avete a destra ma lo stesso vale con livelli di tecnologia differenti ma vale un po' per tutti gli appliance di questo tipo che abbiamo a casa il primo è quello di Apple che si chiama HomePod questo qua è quello centrale di Amazon il nome non lo ricordo ma non cambia nulla quindi oggetti di questo tipo saranno sempre più nella nostra nella nostra vita naturalmente è chiaro che oggetti di questo tipo continueranno a essere sempre più invasivi nella nostra vita perché dovete pensare che sono oggetti che ascoltano tutto quello che noi facciamo per poterci aiutare in qualche modo questo secondo sempre in linea teorica poi ci sono anche i dietrologi che invece dicono che oggetti di questo tipo servono per spiarci e per fare chissà che cosa con i nostri dati tutto è possibile comunque provate a pensare a che cosa c'è dietro ai più grandi ed importanti videogame online che si occupano di guerra questo è uno dei più famosi si chiama Call of Duty dove si vede sostanzialmente un soldato che ha diverse missioni da compiere che va in giro per questi territori di guerra e spara ai nemici naturalmente lo sparare al nemico ha anche al suo interno la capacità di proteggersi dalle azioni di guerra del nemico quindi ci sono tutte le componenti della guerra tradizionale all'interno di questi videogame perfetto dovete sapere che in molti casi i comportamenti che gli utenti attuano giocando vengono memorizzati dai produttori di videogame e vengono poi utilizzati dalle aziende che producono sistemi di intelligenza artificiale per i militari sostanzialmente per fare in modo che i droni che operano in territorio di guerra sappiano come si comportano le persone quando sono sotto un certo tipo di attacco quindi stiamo spostando il livello di conoscenza dall'essere umano che gioca ad un videogame ad una macchina in grado di comportarsi su un terreno di guerra è chiaro che in questo caso non è proprio la stessa cosa perché chi sta sul divano a giocare a Call of Duty non è veramente in battaglia quindi i comportamenti che ha possono anche essere non proprio perfettamente aderenti alla realtà ma è un fatto che ci sono molti campioni di questi giochi che se fossero messi in situazioni di guerra reale probabilmente si comporterebbero meglio di tanti soldati professionisti perché hanno un certo tipo di capacità di interagire con quel tipo di fenomeno infine l'abbiamo già parlato prima come ultimissima cosa che vi volevo dire immaginate tutto questo mondo quindi la base di conoscenza che viene inserita all'interno dell'intelligenza artificiale per produrre informazioni che ci servono tutto questo mondo utilizzato per qualcosa di benefico questa volta non necessariamente qualcosa legato alla guerra e agli ambienti militari come per esempio la salute come vi dicevo prima intelligenza artificiale in grado di raccogliere attraverso sensoristica i nostri parametri vitali inserirli all'interno di una base di conoscenza e capire che i nostri parametri vitali inseriti all'interno del contesto in cui viviamo possono fornirci informazioni in grado di salvarci la vita è naturalmente un elemento estremamente positivo quindi speriamo che una delle strade dell'intelligenza artificiale dei prossimi anni sia anche questa e non sia soltanto quella che vi dicevo un attimo fa io ho finito se ci sono domande sono naturalmente a vostra disposizione a vostra disposizione a vostra disposizione a vostra disposizione